Buongiorno, nel contributo di quest'oggi faremo un commento, una considerazione riguardo a un avvenimento che è avvenuto qualche giorno fa, esattamente il 28 luglio di quest'anno, il giorno della morte di Roberto Cavasso. Ci tenevo a fare questo contributo e farlo anche abbastanza subito, diciamo nel video che avrei postato come ogni settimana, perché trovo che sia assolutamente doveroso spendere qualche parola su quello che io personalmente considero il più grande editore italiano, l'ultimo dei grandi editori. Ovviamente su Roberto Cavasso non c'è molto da dire, perché chiunque, credo che qualsiasi persona di media cultura conoscerà ovviamente la straordinaria mole di lavoro, la grandezza anche di pensiero di questo grandissimo autore, le cui opere sono ovviamente sotto gli occhi di noi tutti. Cavasso infatti non mi metterò oggi a parlare dei libri di Roberto Cavasso, perché altrimenti dovremmo fare un video di due o tre ore, anche perché Cavasso ha scritto moltissimi libri, posso giusto citarne alcuni, i primi che mi vengono in mente, indimenticabile, Le nozze di carmo e armonia nel 1988, che forse il suo grande capolavoro. Ha anche ovviamente il bellissimo libro K, quello sui veda hindù. Molto bello anche La rovina di Kash, dei primi anni Ottanta, o anche K, il libro che scrisse su Kafka. Diciamo che i libri di Cavasso hanno questa straordinaria capacità, come è tipico dei grandi uomini di cultura, di essere dei libri quasi enciclopedici, nel senso che sì, effettivamente sono dei libri anche abbastanza difficili, se vogliamo dire così, per un lettore che magari ci si avvicini inizialmente senza una giusta e un'adeguata preparazione sull'argomento, perché sappiamo che Cavasso ha scritto libri su qualsiasi tematica, infatti Le nozze di carmo e armonia tratta ovviamente dei miti greci, K, come abbiamo detto poc'anzi, è sul mondo indiano, ovviamente sui veda, K è incentrato invece sulla figura di Kafka, Rosa Tiepolo ovviamente sulla figura del grande artista, del grande pittore Gian Battista Tiepolo, eccetera, insomma i libri di Calasso non stiamo di certo qui adesso ad elencarli, però hanno questa grande profondità di, ogni volta che uno li legge, di arricchimento interiore, di arricchimento di conoscenze, proprio vista la grandissima e profonda conoscenza che aveva quest'uomo, si può dire di qualsiasi argomento, di passare da un tema ad un altro con una facilità impressionante, riuscendo sempre però a portare il lettore, a guidarlo per mano e a farlo anche perdere a volte nel senso più bello anche della parola all'interno di questo labirinto che è il labirinto stesso della conoscenza e della cultura. Quindi ogni volta che si legge un libro di Calasso si scopre sempre un aspetto diverso e possiamo dire anche che se ne esce anche arricchiti alla fine della lettura. Ma oggi non voglio parlare ovviamente del Calasso quanto scrittore, vorrei parlare e soffermarmi soprattutto sul Calasso in quanto editore, perché come tutti sappiamo Calasso è stato il fondatore, insieme chiaramente anche a Luciano Foa, Roberto Baslen e della casa editrice a Delfi nel 1962, di cui poi è stato per moltissimo tempo il presidente anche, spendere qualche parola su questa casa editrice mi sembra il minimo, dato che si tratta di uno dei veri e propri fari della cultura italiana, forse la più grande casa editrice che abbiamo ancora oggi in questo paese, per chiunque ovviamente, per qualsiasi appassionato dei libri, della cultura, della conoscenza, molti l'avranno anche notato per chi segue questo canale, molti testi che noi abbiamo commentato, sono stati pubblicati in molti casi dalla casa editrice a Delfi. Una casa editrice che è riuscita negli anni, sappiamo che nacque a Milano nel 1962, è riuscita negli anni sempre a mantenersi ad un costante livello di qualità, di coerenza anche, senza mai farsi condizionare dalle mode cretine e fimele del periodo che potevano essere le mode politiche, dell'ideologia o di altre cose che avrebbero sicuramente declassato questa straordinaria casa editrice. Si può dire che tutto ciò è stato anche merito e contributo di Roberto Calasso, che ha saputo dare un'impronta definitiva a questa casa editrice, che è riconoscibilissima ovunque. Io posso dire che, come me e tantissimi altri lettori, senza i libri pubblicati da Roberto Calasso, molti autori non li avremmo mai conosciuti probabilmente, pensiamo a tutta la grande letteratura mitteleuropea, da Josef Rutte a Sandor Marai, ad Alexander Lernet Olenia e a tantissimi altri grandi autori, importantissimi per la loro straordinarietà, anche per l'importanza culturale e letteraria che hanno avuto all'estero qui in Italia, se non fosse stato per la Delfi non li avremmo mai conosciuti, ma anche tutte le grandi figure culturali che hanno anche italiane, che hanno pubblicato per questa straordinaria casa editrice, pensiamo a personalità quali Elemer Zolla, Guido Ceronetti, Tommaso Landolfi, Cristina Campo, Anna Maria Ortese, Emanuele Severino e potremmo continuare. Una casa editrice quindi che ha sempre messo al centro la qualità culturale, il sostrato, l'intelligenza, anche quello che veramente il libro ha da dire. Ecco perché infatti, come molti aspiranti scrittori sapranno, pubblicare per la casa editrice a Delfi è quasi un'impresa impossibile, ma semplicemente per il fatto ritengo che anche la severità, se vogliamo, di Calasso del declinare molte offerte, nel respingere tantissimi manoscritti che non sono stati, che a volte sappiamo, come diceva lui stesso, un editore pubblica sempre un minimo di quello che vorrebbe pubblicare, è stata anche la grandezza di questa casa editrice. A differenza di molte altre, magari anche nostrane, molto più famose, forse anche di nome, come Mondadori e Naudi, che oggi, a mio modestissimo parere, sono l'ombra di loro stesse. In un'epoca dove purtroppo ormai i libri hanno l'importanza che sappiamo, dove si pubblica generalmente per questioni economiche, cercando di incassare qualche spicciolo, ma poi perdendoci la fascia, portando la casa editrice a diventare un porto di mare, un luogo che non è più, tra virgolette, di senso, un luogo di cultura, ma semplicemente un luogo dove si può guadagnare un pochettino, ma poi, quando finisce la pacchia, come si dice, si rimane tutti a bocca asciutta. E invece la Delfi ha saputo, attraverso Roberto Galasso, mantenersi su questa direzione, sulla direzione invece che ha permesso a molti lettori italiani, incluso il sottoscritto, lo dico molto sinceramente, di essere in qualche modo una guida, anche un punto di riferimento. Ogni volta che esce un libro della Delfi, uno va sempre a vedere che libro è, va sempre a vedere anche chi sono molti autori che poi andando a vedere sono i grandi poi della cultura anche del Novecento e non solo. Quindi questa, la perdia di Galasso oggi sicuramente, soprattutto poi in questi ultimi anni che abbiamo perso moltissimi grandi autori, da un Albrasino a un Ceronetti a un Emanuele Severino, poi parlando anche nella cultura in generale a personalità quali a Ennio Moricone. Sicuramente ecco anche Galasso che si unisce a questa triste lista, di certo ci può in qualche modo lasciare un po' con la mare in bocca, però fortunatamente pensiamo anche alla grandezza dei libri che ci ha lasciato, anche all'impostazione che la casa editrice sicuramente manterrà nel corso degli anni a venire, un'impostazione che sarà sicuramente quella che è stata, diciamo, che l'ha sempre mantenuta ai livelli eccellenti che nel corso degli anni ha saputo dimostrare. Soprattutto oggi, come abbiamo detto, in un'epoca dove l'editore, la figura dell'editore tende a scomparire, a diventare sbiadita, dove troviamo case editrici a pagamento, il fenomeno del self-publishing, dove appunto chiunque si può stampare il libro da solo, ma l'importanza anche dell'editore in quanto figura culturale, in quanto anche amico, potremmo dire così, dell'autore, che sa anche consigliare, che sa anche, diciamo, dare le giuste direttive per la pubblicazione di un'opera. Sicuramente tutto questo oggi, con la perdita di Roberto Calasso, speriamo che non vada del tutto perduto, ecco, questo aspetto non vada completamente a sparire. Questo omaggio che abbiamo voluto fare in questo caso, dedicato a Roberto Calasso e al suo lavoro straordinario, sia come grande scrittore che poi come grandissimo editore, credo che sia in qualche modo anche un augurio di speranza per il futuro, nel continuare, come questa casa editrice ha sempre fatto, a pubblicare libri di straordinaria qualità, libri sempre interessanti, libri che hanno sempre qualche cosa di curioso da lasciare al lettore. Anche poi, tra l'altro, con la cura al dettaglio, che sappiamo nelle copertine, nell'impostazione anche, nell'amore soprattutto per i libri, perché io credo che come un amante dei libri come Roberto Calasso, che ha sempre poi, tra l'altro, sappiamo, è un personaggio anche molto schivo, per certi versi non si trovano molte interviste di Calasso sul web, ce ne sono veramente poche, che si è sempre tenuto quindi lontano anche da, come tutti i grandi personaggi culturali, un personaggio che si è sempre tenuto lontano anche dalle polemiche, dalle stolte diatribe, dai teatrini che purtroppo oggi caratterizzano buona parte del mondo contemporaneo e che invece ha sempre vissuto con coerenza nel mondo dei libri, scrivendo e pubblicando praticamente ogni anno delle opere che ci faranno sempre compagnia, che in qualche modo ci accompagneranno anche in futuro, grazie poi soprattutto al lavoro che è stato svolto con estremo impegno, con estrema diligenza per rendere questa casa editrice, la casa editrice Adelfi, a mio modesto parere, la migliore casa editrice italiana. Grazie. Grazie.